Salve, sono la dottoressa Catea Lalli. Oggi ti volevo parlare di alimentazione e infiammazione. Da diversi studi è stato riscontrato che se mangi cibi grassi, all'interno del tuo organismo si attiva una serie di meccanismi che portano a produrre delle sostanze chiamate pro-infiammatorie, nel senso che determinano un'infiammazione a diversi livelli, soprattutto a livello intestinale, ma anche nel resto dell'organismo. Questo che cosa significa? Che se continui a mangiare cibi grassi, il tuo organismo è infiammato e quindi sicuramente determineranno delle patologie che possono essere artrite, reumatoide, lapsoria, infiammazioni disbiosi a livello del colon, ma anche, e non dimentichiamo, la malattia del secolo che è quella del cancro. Quindi qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è che quello che devi seguire un'alimentazione controllata, può avere di grassi, così da interrompere questo meccanismo chimico all'interno del nostro corpo. E poi ricordati che alla farmacia di Nardo il tuo benessere ci sta a cuore. Grazie.